Grazie a tutti. In Tecpa Fior, che è un'associazione legata all'estetica del capello, di queste cose, ma era una situazione molto particolare dal punto di vista proprio della realizzazione delle immagini che abbiamo interagito con questa cantante e collaborando con Cristian Taraborrelli, scenografo, coautore un po' di tutta la parte visiva, ma profondamente dello spazio scenico, della regia con lei e tutto il resto. Luca Tili era con me su questo. Lo vediamo perché c'è un lavoro drammaturgico all'interno dello sviluppo e di tutta la situazione di movimenti legati proprio... Allora, preciso che in generale tendo a non filmare le cose che faccio perché è un lavoro in parallelo, non riesco a farlo bene. Ho fatto delle riprese di spettacoli, ho fatto tipo il processo, il Barberio Corsetti, quest'opera di Kafka che era il suo spettacolo dove io avevo i miei video, ma allo stesso tempo sono stato autore di un video che documentava tutto per la Rai. Ma lì mi veniva proprio da ridisegnare un po' tutto, da rendere tutto più funzionale a una regia di ripresa, che non era solo quella che lui aveva fatto sulla scena come regista di questo spettacolo. Quindi quello ha anche un lavoro particolare, perché alcune cose le ho completamente reinventate d'accordo con lui, ovviamente non prendo una posizione che prescinde da quello che lui in realtà cerca. Questo per dire cosa? Che questo video non è realizzato da me, è una pura documentazione fatta da qualcuno che l'ha ripreso con un telefonino e l'ha messo su YouTube. Io l'ho trovato, l'ho scaricato, quindi lo vediamo insieme, ma viene fuori un qualcosa che non punta a mettere in risalto la qualità di certe situazioni, però dà un'idea globale. L'inizio del mapping appoggia su un linguaggio un po' obbligato. Se non vedi queste cose, se non crolla qualcosa, se non ci sono degli effetti, sembra che non si stia parlando di mapping. Quindi era un po' una richiesta a monte, non per vengladare, per dire che... Secondo, però, forse lì si vede meno, abbasso un po' la luce, sposto forse quella rispetto al muro, perché è un motturio, si vede, eh? Allora, se vuoi, oriento, perché io rispetto alla qualità di certe cose, se non mi colgo, posso metterla così, no? Questa è la parte più, diciamo, quella tenuta convenzionale per certi aspetti. Poi c'è la luce. E fin qui ci siamo. Una di spettacolare. Qui parte realmente il lavoro, quella che per certi aspetti ci rappresenta di più, che è impostato con lei, lavorato in 3D, simulato, quindi lei diventa un personaggio quasi da avatar, perché la muoviamo come... Chiaramente lei in scena canta un'orchestra... Quell'idea era cambiare la facciata per farla diventare quasi un piostro, una specie di balcone dove lei correva idealmente sopra le teste dei condensati. In quel caso era una cena, è stata un'aperta bellissima per questo momento di... La scena aveva dei volumi interni, quindi tutte le luci che si muovono dentro, tutto quello che era dentro, era in proiezione, aveva questi strati molteplici sull'immagine, ma da qui non emerge. Però è stato interessante il lavoro fatto con lei. Poi diciamo anche questo discorso delle fiori che cadono, che si addensano, questo romanticismo un po' visionario, in questo modo è qualcosa che ho sempre un po' portato avanti, che mi ha rappresentato per molti anni, lo facevo davvero così a 20 anni fa, 25 anni fa abbiamo fatto già le prime... Sono molti dettagli ovviamente che si perdono, le lucile che passano dentro di situazioni... Sono molti dettagli ovviamente... Però questa parte che dura 6 minuti, quindi c'è una munizione all'interno che diventa via via più... Corre un po' per qualche cosa, diciamo la proiezione non rende giustizia, quindi diventa ovviamente questo carillon... E poi venivano tutte... Tutte queste figurine all'interno degli spazi, che ovviamente sempre lei assinuncono a messa, però diventavano realmente molto particolari dal punto di vista dell'impianto di Silvio. Questo momento qua era sul finale, ovviamente c'è il controllo della facciata, ci sono le cose che tutti si aspettano, però a me piaceva l'idea di questa interazione che è... E qui cambiava un po' il registro... Sì, perché automaticamente insomma... Tento di andare oltre... Lo spazio era questo qui, tutto ricostruito in 3D, tutto studiato, anche tutte le animazioni fatte in scala, poi riproposte lì con... Insomma i vari mezzi. Un'altra cosa che forse prima ho omesso di dire è spesso, perché come è successo qui, insomma... Noi, parlando dei videoproiettori e della videoproiezione, può succedere nel nostro percorso che ci viene proposto di utilizzare due videoproiettori a cascata, cioè l'uno sull'altro che collimano a formare un'immagine precisa. Io rispetto a questo, diciamo, ho sempre avuto molti dubbi, è ovvio che preferisco avere un solo mezzo potente e una proiezione unica e anche quando sono costretto difficilmente vado a sommarli per un discorso molto preciso, che è quello che, usando lo spazio in profondità, come in questo caso, perché avevo una colonna di layer, una seconda colonna col muro più dietro, c'era poi questo, chiamiamolo, percorso interno, dove il muro era una certa distanza. Quindi avevo quella che io chiamo la proiezione volumetrica e appoggiavo su del layer. Qui ovviamente non siamo andati nei dettagli, questo video non rende giustizia, ma ci sono una serie di sperine, di cose che vanno su dei punti precisi. Sempre con il discorso della polarizzazione dell'immagine, le due lenti non rispettano lo stesso asse, quindi normalmente riescono a collimare se la superficie è piana, quindi c'è uno schermo, ma nel momento in cui la superficie ha dei piani differenti, è ovvio che se tu lo fai collimare su un punto, non collima sull'altro, anche se alla fine ottimizzandolo riesci ad avere un grado di accettabilità, c'è molto tempo da spenderci per questa ottimizzazione tecnica e poi io personalmente vedo sempre questo disturbo, quindi non riesco a passarci su, questa è un'altra, secondo me, delle regole che uno può mettere e può valutare, poi decide di farlo in un modo o come... Questo è il birdwatcher, abbiamo vinto un premio ultimamente con questo lavoro, che è un'intervista fatta un po' 360 gradi su come... Vabbè, adesso... Vabbè, adesso... Vabbè, adesso... Il valore dell'imprevisto, del meraviglioso, della sorpresa... Vabbè, questa sia l'essenza della città. Surrealisti predicavano la deliria urbana, era bellissimo smerrersi in città. E io stesso, più di una volta, ho pensato che per conoscere una città bisogna perdersi, qualcuno che non si è perso a Venezia, non si è perso a Parigi, non si è perso a Roma. Oggi a questa idea di smerrimento si associa un'idea di pericolo, anche se poi, che so, poi invece la città riserva sempre delle sorprese. ricordo quando si scoprì la città degli immigrati che dormivano all'ex pastificio Pantanella. In quel caso le stanze non c'erano, c'erano i materassi per terra, però degli elementi di divisione, che anche se non erano tramezzi, indicavano che finiva il luogo dove abitava una persona, iniziava il luogo dove abitava un'altra persona. Non credo, francamente, che le nuove tecniche digitali contribuiranno molto a cambiare l'immagine delle città. Ho l'impressione che la breve epoca che è stata aperta dal Buchenai in Bilbao di Franghei si stia già chiudendo, insomma, i grattascegli storti dell'Expo di Milano non hanno prodotto lo stesso effetto. Credo che la verifica sarà la nuvola di Fuchs. Invece prosegue un'epoca che è stata aperta, credo, dal Sant'Opropidù di Renzo Piano di Rogers, cioè quella in cui l'architettura non ha vergogna di mostrare i propri elementi di servizio, le parti funzionali. Questo è importante. Forse la città se ne dovrebbe un po' riflettere, però, su questo, perché, diciamo, la città sta perdendo le proprie parti di servizio, lo spazio pubblico delle piazze, delle strade. È sempre più il sogno di una cosa passata. Ed è stato fatto un lavoro sull'immagine accostata alle personalità in oggetto, quindi tutta la costruzione del visivo non è messa dentro semplicemente per costruire un prodotto, ma ha uno stile, ha qualcosa che va a collimare con tutto quello che è stato pensato sullo storyboard, realizzato, messo su, con la costruzione... La velocità massima che è consentita nella città deve essere quella del trasporto pubblico. Se il trasporto pubblico è organizzato bene, ci si sposta velocemente. Credo che ci debba far riflettere il fatto che poi le città non sono degli organismi che sono piegabili a volontà. Bisogna anche rispettarle per la loro forma fisica. Prima c'era un'uscita chiara dalla città, c'era la campagna. Oggi, come facciamo a dire che la città finisce? Proviamo ad andare da Rimini a Pescara e non ci accorgiamo mai di uscire o di entrare in una città. C'è anche a chi piace questo. Ci sono anche i teorici della bellezza di questi terrenvati. La chiamano metropoli. No, non è metropoli, per la verità. È perdita dell'effetto città. E di fronte alla metropoli, certo dobbiamo tenere presente il fatto che la realtà della metropoli sono piuttosto i suburbini americani che non i disegni di Sant'Elia. Oggi noi non sappiamo immaginare né il conflitto né il futuro. E questo mi preoccupa. Ho l'impressione che la nostra società sia un po' sotto sciocca. Si costruiscono degli spazi ameni, belli, presentabili e in questo modo si occulta tutti gli spazi che non sono presentabili. Questo è ciò che soprattutto minaccia oggi la città. Ci sono delle parti che sono disegnate per essere imparata. E il resto è come se non esistesse. Naturalmente gli spazi più interessanti di quella delle città sono quelli che non esistono. E il resto è un po' sotto sciocca. E il resto è un po' sotto sciocca. Il sistema percettivo di noi contemporanei dell'oggi, di noi ascoltatori dell'oggi è fortemente cambiato. Cambiata probabilmente la funzione o il concetto di rumore. Se penso all'ascoltatore contemporaneo, all'ascoltatore del nostro tempo, lo immagino con un grande occhio e un piccolo orecchio. Non c'è la paura del silenzio perché noi non siamo più capaci di ascoltare. Quindi non riusciamo più ad ascoltare. Non è tanto per la ricchezza, per questa ipertrofia di produzione di suoni, ma non ci sono più gli strumenti, i veicoli per penetrare attraverso il suono. Quindi l'ascolto viene mangiato, divorato dalla visione. Mi piace ritrovare una citazione di Roland Barthes quando scrive che abbiamo perduto la sapienza per la conoscenza e recentemente si è persa la conoscenza per l'informazione. Passo un po' avanti per vedere il blocco a parte che io sono in varie situazioni, ma qui c'è un'immagine che a me piace molto, stratificata, in layer, che era un'installazione che prescindiva un po' da questo, però mi piaceva metterle dentro con lui che ovviamente è un po' di cura bellissima, ma nella città la fiamma un'aria, e quindi qualche volta, secondo il figlio, l'ho fatto, l'ho fatto, e tutto quello che sono gli sbagli, gli sbagli, cioè, e queste sono le posizioni, gli stili che ci sono, ma niente di mai perfetto. Questo blocco, ok, ed è questa immagine. C'è tagliato a lei anche persone che è Angela Barcamente, che... Nella città occorre anche ripostruire delle identità. Io penso soprattutto alle periferie, quelle periferie prive di elementi di riconoscimento. Ognuno di noi ha bisogno di identità. L'architetto e l'urbanista hanno smarrito quella capacità di immergersi nei contesti di vita delle nostre città e di cogliere il senso. Non parliamo di, come dire, di città astratte, non parliamo di città di pietra, dobbiamo parlare di città vive. Questa è la città. Il progetto d'architettura non è un'opera d'arte, che si guarda, si contenta. Il progetto di architettura è qualcosa che si vive. E quindi, sempre, il progetto d'architettura dà delle risposte imperfinenti all'idea del progettista. Nel momento in cui è usata, vado un po' avanti in velocità perché tutto ciò per portare anche a Enzo Mari e per fare una chiusa fondamentale rispetto anche a qualcosa che, insomma, adesso è un po' in parallelo a tutto quello che stiamo dicendo. Su Durile e la Costruzione ancora faccio vedere un po' il tipo di immagini che ognuno poi ha la sua partendo dai livelli utopici del pensiero del globale di ciò che sarebbe giusto per l'uomo e dopodiché contrattare, vedere come realizzare comunque quello che devo fare. Io ho fatto quasi duemila progetti non sono un pazzo sono un utopista ma coi piedi per terra nel modo del lavoro. Ma in un qualche modo nel fare questi progetti tenendo conto di tutta la problematica globale e tenendo conto che se faccio un oggetto dovrebbe portare in sé la sua valenza monumentale. Quando noi guardiamo i grandi capolavori dell'antichità la società è completamente cambiata quei ruoli sociali dice delle cose bellissime vado per l'immagine per velocità se no sempre girato qui quindi c'è un composite di immagini ma lascio questo blocco mi avvicino al finale per avere un po' la sua chiusa che è una chiusa bellissima di tutto il lavoro rispetto a quello che dice. per bari eccetera prevalentemente vedi un high cyborg una situazione assurda. prima di costruire le fabbrichette e le case per dormire prima vanno realizzati gli edifici degli dei quando poi le persone cominciano ad abitare le case l'abitazione c'è tutto il microclima delle cose troverebbero il luogo dove avvengono i rituali e i dialoghi collettivi negli ultimi duecento anni si è molto parlato laddove la città si estendeva delle cosiddette città o quartiere satelliti e si è cominciato subito a costruire abitazioni il luogo è sempre rimasto il vecchio luogo antico e queste cose sono sempre rimaste dei ghetti con forme di degrado sociale costose è vero che costruire tutto prima costerebbe di più che non dare a casa a delle persone nell'immediato si ma nei tempi medi per non parlare dei tempi lunghi costerebbe meno perché le persone vivrebbero meglio vivrebbero in un luogo dove esiste il cuore del loro luogo e non in un dormitore il progetto non può essere fatto un progetto finale perché alla fine ci vuole un artefice che finisca la forma di un edificio o diversi artefici ma bisogna che questi artefici siano grandi artisti e non siano genericamente dei diplomati di architettura o dei tecnici che arrivano con visioni parziali la gente dimentica che tutto ciò che viene costruito diventa prodotto industriale diventa merce quando io mi guardo intorno e vedo le persone cammino per le strade per Milano per Roma per Bari eccetera prevalentemente vedo dei cyborg il cyborg nella fantascienza è l'uomo macchina è l'uomo con protesi varie di diverso tipo all'inizio le protesi venivano inventate lentamente e via via sempre più celermente adesso siamo in una situazione dove esistono milioni di protesi inventate dall'uomo ma siamo in una situazione abnorme le protesi erano utili all'uomo a questo punto gli uomini sono diventate protesi di un sistema cieco che usa l'uomo come protesi quindi io vedo una società prevalente almeno più di un terzo forse il 50% delle persone che camminano per strada hanno in mente un sogno di comodità infinita ecco bisogna riabituare queste persone a rimboccarsi le maniche e a conquistare il mondo costi quello che costi sinceramente voglio dire che sia però ti fa riflettere siamo veramente circondati da protesi da possibilità della situazione però inseguiamo questo sogno di comodità infinita anche sotto il profilo produttivo delle cose che facciamo invece quando uno realmente forse ci si applica in maniera più così particolare i risultati sono più potrei andare avanti ma non so se è il caso di fare una rassegna personale di altre cose ancora a seguire perché poi tra l'altro anche il big watching si può vedere in rete non utilizzerei questo tempo se non per cose particolari quindi non so se ci sono bird watching sì in rete come altre cose noi abbiamo un canale youtube ma non lo alimentiamo molto perché in realtà anche lì per farlo servirebbe una costruzione precisa del tempo prima anche il nostro sito in realtà abbiamo due siti abbiamo varie varie cose però adesso sono pagina in costruzione da due anni l'ultimo è comparso già il logo delle robe però ogni volta lo rimoduliamo lo facciamo cambiamo è una specie di divertimento tra al momento tra me e Luca però fra poco insomma sarà tutto più o meno classificato rimesso lì sai è difficile mettere in prima linea un'immagine che ti rappresenta quando c'è una vastità di cose fatte anche da quali non mi piace poi prendere da un passato vorrei proiettarlo più in avanti ma allo stesso tempo non lo so sono dei momenti anche questa cosa insomma passa attraverso dei filtri che non sono minimamente calcolabili e adesso è così però abbiamo un canale youtube ovviamente anche su facebook Iacone a TV studio è presente con una sua pagina dove ogni tanto pubblichiamo delle robe ma lì è un discorso molto più user friendly quello che facciamo apre un po' a un gioco apre un po' a situazioni variopinte le nostre fotine ricordo delle cose che hanno ovviamente come tutti quelli che usano facebook che così tendono a un sociale un po' più differente rispetto a avere un sito istituzionale e proporsi diversamente che dire non so se domande o cose giusto per ok una domanda sulla questione del mapping che ci hai fatto vedere prima mi chiedevo se in quel caso sono stati usati due proiettori o un proiettore e come è stata rilevata la superficie per poter poi lavorare in postproduzione al computer certo allora diciamo che noi abbiamo chiesto ovviamente dei sopralluoghi sono state acquisite delle documentazioni quindi sono state fatte dei rilievi sia con dei mezzi un po' così particolari in grado di prendere la superficie delle foto che poi dovevano rispondere esattamente al punto dove sarebbe stato come è venuto collocato il videoproiettore quindi è stato ricostruito virtualmente l'oggetto facciata e abbiamo lavorato con una proiezione e poi tutto messo in pianta con l'integrazione su musica era tutto un po' ovviamente calcolato a monte c'erano due videoproiettori due videoproiettori potenti loro mi suggerivano insomma l'accensione io personalmente l'ho tenuto come backup di riserva perché la situazione era particolare non potevamo rischiare che l'immagine c'è stato qualche momento interno del pubblico prima poi queste cose succedono sempre un minuto prima della messa in onda dove lo stand by le cose un attimo di panico però poi tutto bene e devo dire che era in seconda macchina come preparazione perché è spesso richiesto esattamente che ci sia proprio un backup che in caso di problemi entra subito e puoi avere uno scarto di un fotogramma nero puoi avere qualcosa però hai continuità dell'evento perché in alcuni casi sarebbe imbarazzante poi appoggiamo sulla tecnologia appoggiamo su una situazione particolare se c'è un topo di mezzo crolla al castello non so come dire quindi è sempre stata una cosa imbarazzante per me quando c'è un errore di questo tipo è sempre non so qualcosa che ovviamente per noi tutti immagino mortificante ma poi principalmente perché tutti i rapporti ha un mezzo che ritieni perfetto quindi va su una linearità legata all'informatica dove un'informazione passa per quello che è viene tradotta da un sistema quindi il fatto che ci sia un arresto si può succedere può succedere la macchina però non è gratificante cioè il sistema purtroppo ti chiede la perfezione che poi ha dentro questa con la propria qualità io diciamo che in generale sì a volte rischio nel senso che per budget c'è una sola macchina siamo così lavoriamo con un sistema che se va in tilt va in tilt io una circostanza importantissima guarda adesso non dico la sede e non dico nemmeno gli autori coinvolti c'era una figura istituzionale ai vertici che doveva arrivare insomma tutta una roba così eclatante questa prima e noi avevamo lavorato fino alla mattina su un sistema che era da un certo punto nello spazio e tutto il sistema scendeva giù in uno di questi palchetti dal palco reale scendeva giù in un altro palco così che stava di vicino con il sistema di regia l'arrivo di questa figura politica così importante ovviamente ha creato un po' una come dire una configurazione diversa della nostra regia con tutto il resto quindi ci siamo dovuti spostare per cedere spazio alle persone che gli stavano dietro abbiamo allungato il service che comunque è un ottimo service allungato un cavo di molti metri a distanza quindi tutta la gestione di questa cosa qui non era più lì sotto lì vicino dove abbiamo fatto le prove ma si era spostata quasi in proscenio rispetto al punto di proiezione questa mezza è il giorno della prima queste cose non si fanno io oltre che segnalarlo non potevo fare nulla lì c'erano situazioni che un po' erano al di sopra di quello che io potevo controllare però comunque voglio dire io l'ho fatto presente le persone non è che hanno ostacolato questa logica non si poteva fare altrimenti quindi io devo avvalorare il percorso cosa succede ho chiesto una prova del pomeriggio per varie cose perché poi sai lì la struttura non è che tu vuoi fare una cosa e tutto è pronto tutti aspettano a te ci sono orari situazioni per le prove la gente non c'è l'elettricità manca devi far convergere una serie di competenze in un momento preciso va messo in un programma quindi non ho potuto verificare il sistema ho acceso lì ho acceso là ho visto che la luce arrivava tutto bene era tutto illuminato e quindi non mi sono tranquillizzato però ho detto va bene dopodiché a ridosso diciamo la prima poteva essere intorno alle 8 e mezza di sera intorno alle 6 dove era possibile fare una prova abbiamo acceso tutte le macchine e le immagini erano completamente distorte c'era qualcosa che non andava tutto quello che avevamo fatto non tornava al registro il mapping erano diventate incontrollabili tutti in panico io che tento di tenere la calma perché sai è importantissimo non posso andare in tilt in realtà dentro è ovvio che non potete immaginarlo però realmente dove assumere un controllo preciso della situazione mentre questo ragazzo che mi seguiva la console loro del service ovviamente tentavano di risolvere il problema in tutti i modi passava il tempo un quarto d'ora venti minuti e io sudavo freddo perché la prima era imminente lo spettacolo era completamente basato sulle immagini erano parte voglio dire integrante ma nello stesso tempo si interagiva tolte le immagini si svuotava diventavano degli imbolocri belli ma non avevano più diciamo l'interazione prevista non è che i video erano importanti erano stati pensati con una logica molto integrata quindi mancando video ti assicuro che andavo a colpire da qualche parte e facevo un danno notevole anche alla storia del regista io non sapevo quindi tutto quello che potevo fare era congelarmi riflettere pensare e rivedermi tutta la linearità del processo dei cavi cablaggi la corrente le cose perché non riuscivo a capire questo videoproiettore perché non ristabiliva le sue cose allora a un certo punto lentamente mentre si avvicinavano le sette quindi mancava le 19 un'ora e mezza e vai a rischio perché dobbiamo provare tutti i video allora cosa succede che vicino a me cominciavano a mettersi il direttore artistico il direttore tutti un po' come persone allora funziona non funziona agitate più di me io non vi preoccupate dentro morivo ma sai lì veramente sono diventato un attore che non so se recitavo bene perché era impossibile però comunque ho dovuto tenere testa a una situazione veramente di alta tensione e poi decido prendo una decisione ho fatto sì sarà questa figura autorevole sarà quella che vuoi ma torniamo subito lì ma come spostiamo la console e tutto fatto no mettiamo il computer insomma ho fatto una soluzione istantanea che chiedeva comunque 40 minuti per installarsi quindi alle 8 eravamo pronti rispetto all'ora quindi mezz'ora prima della prima e ho detto spegnete subito l'operatore un reset insomma ho imposto delle regole veramente forzando la situazione facendo tutto mettendo lì tutto eccetera eccetera abbiamo rimesso tutto lì praticamente ho detto ho rischiato la grande non so quello che faccio tutto lì ero fermo e dico l'accensione ok confido in un miracolo confido in un miracolo acceso un altro problema non quello di prima c'era un altro problema allora solo grazie a una conoscenza tecnica acquisita nel tempo sono riuscito a capire che era un fatto di sincronismo legato ho dato a lui che era agitato quindi magari ci sarebbe arrivato quanto me alla soluzione ho fatto fai così ti prego fai così ma Fabio adesso fai così ti prego fai così con tutto ciò sono stato molto ferreo perfetto tornata l'immagine perfetta io veramente ormai la prima prima era già passata anzi c'era veramente l'ultima mi sono veramente squagliato ok va bene così lui entra in sala con l'accensione il video parte in quell'istante perfetto come se nulla fosse stato ma fino a un minuto prima c'era a fine mondo cioè è l'unica circostanza che mi è successa significativa da questo punto di vista di qualcosa che di tecnico ha comportato un grave problema non avevamo il backup non avevamo cose quindi voglio dire lì veramente la mia professione è stata molto messa alla prova con tutta l'esperienza e lì ovviamente io sì potevo appoggiare sul know-how dei collaboratori perché comunque voglio dire erano persone di tutto rispetto però c'è sempre quel qualcosa che se non lo sai in prima persona non puoi seguire il processo non puoi seguire tutta la pipeline di distribuzione del segnale dove crea questo cortocircuito che determina e lì per fortuna un po' d'esperienza mi è servita poi le macchine un minimo ho imparato a conoscerle cioè devo dire che ecco anche questo è importante che in questa professione certo è bellissimo fare l'artista è bellissimo arrivare lì e dire ok io immagino questo me lo realizzi sì va io lo firmo e va lì però realmente è cambiato un po' è cambiata un po' la filosofia anche rispetto a questo tipo di atteggiamento attualmente diciamo che tranne quando c'è uno spirito di collaborazione con altri autori dove si condivide un progetto magari c'è chi pensa a fare che ne so modellazione uno pensa alla fluidodinamica l'altro può occuparsi perché sono dei ruoli molto precisi chiaramente non è che uno che fa 3D assume tutte le competenze in una maniera così perfezionata è ovvio che ci sono dei ruoli precisi per fare queste cose qui l'ecosistema lo sviluppo solo se una persona deve pensare ad arredare un ambiente 3D e metterci i giusti elementi che poi ti compongono lo spazio in realtà è una cosa precisa se non sei uno che sai immaginarli quindi io faccio lì faccio difficoltà se non avesse dei collaboratori di cui mi fido di che lì mi piacerebbe questo oggetto sai devi scegliere il design la forma metterlo sotto la luce è una cosa precisa torno a dire allora rispetto a questo cosa stavo dicendo scusami mi sono un po' perso del ma di conoscere comunque delle però avevo un'altra diciamo dentro tutto ciò voleva arrivare a qualcosa di preciso e mi sono un po' perso vabbè se lo perdiamo pazienza altrimenti mi tornerà qui cambio un po' registro rispetto anche a una logica di sperimentazione perché diciamo tempo fa ho lavorato nella direzione che sarà banale sarà anche già perché l'ho fatto nel passato ma adesso è più veloce riesco a farlo in una maniera con dei software che mi aiutano con delle situazioni anche più performanti tra quello che voglio ottenere e il risultato immediato che puoi verificare però mi andava di tradurre ci sono dei software che lavorano sull'audio che sono spettacolari ovviamente l'audio è quello che noi sentiamo ma c'è anche qualcosa che viene rappresentato della forma d'onda che la forma d'onda non è altro che una rappresentazione grafica di una frequenza di un suono di qualcosa insomma che ha una natura differente dall'immagine allora mi sono detto proviamo a mettere in campo un testo e tradurlo dal punto di vista visivo ma non con un'immagine astratta sai si fa c'è un software che reagisce all'intensità dei suoni e modula come può essere non so anche Windows Media Player o dei software randomatici che cercano questa associazione tra suono e immagine però realmente lavorando sulla frase quindi che significa che se tu prendi quella forma d'onda la riconverti in suono nella mia teoria così torna la voce e ti torna quella parola non so dirti ho fatto tutto questo lavoro qui su un testo che parlava di guerra che parlava di poi una poesia di un autore c'è dentro anche un testo disseminato di Tristan Zara perché visivamente mi tornava lì o l'ho cercato l'ho messo dentro però profondamente è una specie di guerra tecnologica qualcosa e ho fatto tutto lavoro di ricerca molto lungo sono stato un tempo assurdo su questa cosa qua perché era diventato facile perché una volta che tu in realtà vedi che il processo è quello mi andava di costruirlo di sperimentare aggiungere dell'aer farlo in animazione e portarlo su una base 2D fare degli interventi sui fotogrammi giocare sull'aer io vi faccio vedere il primo livello c'è la base primordiale di questo lavoro che è diciamo in editing ma quando avrò perché è una cosa molto personale anche non so se visivamente non l'ho mai fatto vedere però ritengo anche questo che è un testo che racconta una cosa molto forte dentro poi c'è ripeto questo blocco legato a Tristan Zara c'è tutto un finale però adesso faccio vedere come immagine pura legata a se stesso ma è interessante come questo testo andando avanti ovviamente ho regalato un po' il tono di come veniva letto gli ho dato delle pause l'ho un po' gestito non è che metti lì e ti si configura questa cosa qua però realmente poi mi passava tutto il processo fino alla fine a un inizio a una fine a un epilogo interno legato al fatto che la persona leggeva in maniera più concitata perché l'azione dentro si configurava più dinamica quindi devo dire che è stato qualcosa che ancora non ho mai usato in una maniera precisa però esiste cioè ce l'ho come alfabeto possibile ed è questo video che faccio vedere adesso con il suono che è fatto su che era un po' queste parole questi testi su dei layer e hanno questo sviluppo adesso dura un po' quindi magari corro sull'immagine come vedete si sviluppa e compone delle figure bellissime se uno le isola se io ti blocco il fotografio alcuni sono composti da quell'interlacciato che parlavo prima sul premio A c'è un'immagine sul premio B un'altra e nell'accelerazione genera un mondo mi piace sembrano dei missili cioè io l'ho immaginato come tu entri in questo spazio dove c'è questa materia un po' dovuta e con questi suoni possono magari alcuni frammenti di testo non lo so c'è tutta una questione si viene diventata è ancora il corso d'ora però io trovo interessante poi in realtà con l'incalzare col fatto che la voce diventava più profonda c'era un'alterazione che io facevo non più sull'immagine ma l'andavo a fare sulla frequenza del suono con dei generatori che si chiamano architecture che sono delle forme d'onda anche che ognuna di queste forme d'onda a secondo di come tu gli fai arrivare l'impulso e quello che gli arriva sei in grado un po' di posizionare un'immagine che va in una certa direzione anziché un'altra perché sono dei filtri rispetto a un impulso di qualche tipo e quindi ti faccio vedere perché da il discorso dell'ire sì ci sono dei processori adesso che sono in grado di fare un'elaborazione di questo tipo certo diciamo che sicuramente live uno ottiene un risultato questo è un po' più sofisticato perché diciamo qui andavo su delle forme un po' più meno rotonde cioè ho capito come gestire tra il testo la frequenza di input e modularne per riuscire a ottenere non so più c'era l'idea di lavorare su delle strutture solute dei palazzi la città mentre prima c'era un discorso di e ti faccio vedere quando diventano più concrete ovviamente è un amore difficile dal punto di vista dell'attruzione non so se ci sono molte persone che sono interessate a un'immagine andando sempre avanti nella costruzione quindi da qui cioè se io non scelgo tutto c'è questa metamorzosi delle linee delle forme capisci che c'è qualche continuità c'è qualcosa che sta andando davanti poi delle frasi tornavano quindi la figura è simile all'interno delle frasi le ho doppiate alcune avevano un eco quindi la stessa frase diventa un po' più i layer sono più soffusi come dire è un alfabeto no? in costruzione e tutto va tutto va fino alla fine bla 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 che si riduce semplicemente in quest'atomino iniziale a qua diventa quasi grafia pura e via di seguito si riduce e diventa per dirti anche quando uno tenta di prendere un elemento astratto partire da altre forme per generare certe immagini io ho sempre fatto un po' questo tipo nel mio passato diciamo che l'aspetto del suono no? della forma l'onda di queste cose qui rappresentata come immagine oppure utilizzata come sempre stato un po' dentro quello che ho ricercato io ho sempre dato molto valore al suono nelle mie cose anche come viene collocato l'ascolto che uno ha ho i miei riferimenti in termini di mezzi da usare la qualità chiedo certi diffusori anziché altre casse acustiche insomma è importante un elemento che ai fini della percezione ai fini di tutto va considerato quanto le immagini stesse se il suono in quel caso va messo risalto in un certo modo quindi voglio dire questo poi nel passato ti ripeto ho fatto una serie di video in questo ti parlo sempre tipo 25 se non 30 anni fa ovviamente i mezzi erano quelli che erano nero così professionale a 20 anni che poi che avvene in mano è 20 anni fa tra l'altro non solo perché erano 20 anni ma anche perché insomma voglio dire è molto tempo e se parliamo tecnologicamente torna a dire che è una pre-storia di tutto il giorno non c'è che altri colleghi che hanno fatto le cose spettive però comunque voglio dire sai c'era una linearità delle cose che uno cercava che era un po' assodata quindi forse era quello di interessante ma c'era questa ricerca parallela che era un'ultra stimolante e lì avevo sviluppato una serie di video che si chiama Verbe che è un momento poetico è un po' così come può essere lo sping che ne so in un momento preciso conto e avevano tutti un tema particolare in realtà c'era Verbe sul ritmo che aveva un impianto simile era molto ritmico ma era generato con delle frequenze che questo contatto era posizionato su un altoparlante che rilascia delle frequenze basse che non sono quasi udibili però c'è una reazione fisica proprio del corpo a questa frequenza oltre che la senti lo stomaco ti vibra ti senti scuotere ma se tu metti lì un oggetto l'oggetto ha una vibrazione e questa vibrazione se tu la consideri giocando sulla frequenza all'epoca questi erano i mezzi per ottenere delle cose avevo messo questi cavi con un microfono mettevo dei sensori mettevo delle robe e in realtà questo verbo sul ritmo era costruito su queste frequenze un po' come questo però in una maniera chiamiamola analogica rispetto ad esso che è molto più semplice che basta una scheda MIDI basta un sistema che te lo permette il risultato voglio dire può essere live quasi ma ci sono dei software che te lo fanno prima hai citato Resolume Resolume è uno che può reagire a una situazione di questo tipo ci sono molti software che traducono un input audio molto tempo fa con un coreografo un collega molto così in gamba abbiamo fatto un'installazione in un castello lui aveva questi multi spazi una cosa molto bella un progetto straordinario io nel mio piccolo ristretto ambito avevo messo su delle cose un po' parallele poi le ho riprese dopo le ho sviluppate sono diventato un'interazione con delle immagini che sono un po' lo stadio primordiale al zoo quello che abbiamo visto stamattina però la cosa divertente è che l'interazione era data da il rumore reale che veniva messo dentro e processato dal computer ma era semplicemente un microfono di quelli che all'epoca sensori robe varie arduino francamente non erano così alla mano o diffusi o esistevano adesso non mi sto lì a tornare dietro per capire ma sicuramente non c'erano in computer quindi però diciamo che i primi apparecchi con delle cose software eccetera io avevo questo microfono che aveva attaccato semplicemente sotto una sedia quindi reagiva fisicamente a qualcosa di concreto tu ti appoggi e il microfono coglie il suono del tuo appoggio poi sei fermo e non succede nulla ti muovi ovvero muovi un attributo del corpo medio tra l'altro il basso sulla sedia e lì scopri che succede questa interazione quindi era divertentissimo vedere che lo spettatore muoveva quell'attributo sulla sedia per ottenere un certo risultato che non voglio dire al momento perché insomma non è il caso però questa interazione che succedeva vi assicuro che era divertentissima ma non tanto perché questo scatenava quello perché vedevi che la persona si agitava capiva il gioco dopo un po' ma era tenuta con una facilità estrema cioè l'impulso del segnale faceva scorrere semplicemente la lupa avanti e indietro non era una roba esoterica parliamo di interazione di sensori e di robe varie allora nei miei interessi diciamo non sono così profondamente legato a questa logica perché per me l'interazione realmente quella più randomatica intendo dire inafferrabile dove qualcosa si genera ma è veramente incalcolabile al momento è difficile l'ho vista poche volte si può configurare in qualche immagine che è così astratta dove tutto diventa possibile quindi non è una cosa definita che io possa afferrare capire oppure che mi torna dietro con una qualità che mi fa capire che quella cosa è sempre un po' calcolata è come se i sensori come se tutto ciò diventano quasi come un mouse quindi se io vado lì e faccio queste cose ottengo questo risultato se vado se vado nell'altro punto e taglio quel sensore ottengo un altro quindi lo trovo un po' come una pagina legata internet dove tu vai nella pagina se clicchi non so fotografia c'è la galleria delle foto anziché biografia e ti viene fuori il pdf della tua vita quindi diciamo adesso sto semplificando io chiaramente poi vado preso un po' con le pinze rispetto a quello che sto dicendo però realmente c'è un sistema che uno mette su ci sono sensori ci sono robe di un impianto che è qualcosa che per renderlo sofisticato chiede un lavoro importante chiede una logica dove uno deve diventare un po' proprietario e io non l'ho mai sviluppato più di tanto istintivamente che devo dire nessuna conoscenza l'ho dovuto usare lo uso ho fatto uno spettacolo in Portogallo a Pianoporta dove Pedro Burmeister questo pianista in pratica suonando attivava questi sensori che facevano scendere una camerina i tecnici della Time non ricordo adesso la marca del piano scusatemi ma erano venuti dentro a mettere sul martelletto questa microcamera che andoveva a distogliere dai suoni quindi tutta una roba particolarissima quindi in realtà lui suonava ma visivamente c'era un universo d'immagine che nello stesso tempo aveva la forza creativa della sua esecuzione perché a lui in diretta lo scatenava e lì io ho dovuto appoggiare su situazioni di questo tipo per dirti l'esempio più rappresentativo però nelle altre cose è sempre stato e poi diciamo che tutto ciò io un minimo in maniera divertente l'ho un po' rimessa in gioco sperimentato ho fatto degli esperimenti con un software che si chiama quello di stamattina il software no quello però in pratica è un software molto semplice che forse l'uso mi dispiacerebbe non dire il nome perché può essere un'indicazione ma scusatemi nella mia memoria purtroppo molte informazioni però per dirla in parole povere continuando un po' il discorso è un software semplicemente che inquadra una certa zona una certa superficie fanno inquadratura dello spazio ovviamente io l'ho usato con una telecamera in verticale on stage quindi prendendo il palcoscenico e nell'immobilità tutte le associazioni sono immobili chiaramente non c'è un evento che le possa scatenare come dei sensori che devono catturare per forza un movimento però la cosa interessante è che tu puoi assegnare a dei pixel a dei punti a delle zone zone media trigger qualcosa del genere si chiama media zone trigger non lo so insomma se fate un minimo di ricerca su google spunta e io loro me l'hanno dato un beta tester l'ho testato è divertente per certi aspetti in pratica a questa zona di immagine ripresa puoi associare dei punti che se vengono se si modificano all'interno dell'immagine statica puoi associare un evento l'evento è la riproduzione di un brano audio la riproduzione di un brano di un video una grafica con un testo che va e quindi se uno dissemina di situazioni tutto il palcoscenico ai punti realmente può creare un discorso un linguaggio uno spostamento vai su un punto la traiettoria lì viene chi se lo studi lo fa interagire il primo problema del video che guarda spunta una parola cioè diventa nella semplicità nella sperimentazione quotidiana un po' del fai da te è divertente è un software che ti permette in completa autonomia con una webcam da 10 euro e questa cosina di ottenere dei risultati che possono essere l'embrione di uno sviluppo più performante con dei mezzi sofisticati e con una situazione più completa a seguito quindi rispetto a questo cos'altro posso aggiungere abbiamo parlato di interazione un minimo mapping cose non so se magari c'è una curiosità qualcosa che prima durante la pausa ci parlavi della tua passione per il Portogallo quindi volevo sapere quanto conta per te l'interfacciarsi con altre realtà culturali guarda io credo che tutti voi andiamo viaggiare c'è proprio un discorso legato alla contaminazione no? alla contaminazione culturale alla contaminazione di stile alla ricerca anche questo fa parte di una ricerca se uno non lo mette dentro la professione comunque alla ricerca di sensazione alla ricerca di un discorso culturale differente per quanto riguarda il Portogallo non è semplicemente questo non è semplicemente il fatto del viaggio della città dell'aspetto culturale di una nazione degli artisti che tu puoi trovare lì è un innamoramento particolare un innamoramento per la cultura portoghese questo grazie anche degli amici e delle amiche che ho trovato sul posto che mi hanno un po' su questo come dire alimentato adesso non mi vengono propriamente i termini e quindi accuso un po' però realmente anche il confronto con degli autori adesso io parlo del Portogallo ne potrei parlare veramente a lungo conosco i più grandi autori portoghesi sia i registi cito uno per tutti Riccardo Paese che è un uomo di cultura secondo me così incommensurabile è una persona che io stimo tantissimo con la quale collaboro da anni il nuovo progetto che stiamo facendo lì sarà fatto con lui ho collaborato con vari autori in Portogallo diciamo la scuola nazionale di danza con Paolo Ribeiro che è uno dei coreografi interessanti appunto ho conosciuto anche per dire per citare i nomi però queste cose poi mi mettono sempre un po' a disagio però Amalia Rodriguez insomma per me era un mito il fatto di averla conosciuta visto uno spettacolo siamo stati a cena comunque voglio dire dentro una nazione quando entri così conosci queste persone che sono un po' dei minti sotto certi aspetti semplicemente perché io devo dire che a me il fado piace ovviamente io sono un amante della musica mi piace a livello come apprezzo la musica e apprezzo la cultura però però quando all'interno di qualcosa c'è una qualità eccessa la persona stessa brilla quando incontri degli artisti così in Portogallo mi capita spesso poi da nazione piccola quindi di conseguenza c'è più modo di relazionarti a degli autori a degli artisti a dei creativi e sviluppare un rapporto più forte perché come dire si è più condensati questo può capitare meno in altre nazioni però sembra affascinante il rapporto con le collaborazioni voglio dire sia nazionali perché io comunque resto e sono un nazionalista però profondamente ormai è una fusione è una banalità dire che c'è una globalizzazione in atto però è così io non è che mi rendo più conto che mi trovo in Portogallo anziché di essere ad Amsterdam o Parigi sì cambia l'architettura cambia qualcosa le persone le lingue dopo un po' capisci che è così se ne vanno vissute così e devo dire che profondamente con i vari autori nelle varie situazioni all'estero ho sempre avuto qualcosa che mi ha arricchito in una maniera perché è come se tu di colpo apri una porta e c'è un magnifico paesaggio quindi all'interno poi le collaborazioni che in generale ho fatto e abbiamo fatto anche con Luca perché tendo a sottolineare che sì ho avuto un percorso molto sviluppato da me sono da me con degli assistenti in luogo poi ho deciso di portare avanti qualcosa con lui e quindi condivido certe scelte tutto perché a me piace molto collaborare con delle persone mi danno più lucidità più chiarezza rispetto all'entusiasmo che posso avere io con me stesso da solo come dire sì sono abbastanza lucido per capire se è una cosa mi piace o non mi piace però comunque l'idea non lo so è così però cosa stavo dicendo all'estero tutte le varie collaborazioni che ho fatto con altri autori era semplicemente per quest'idea di curiosità è un po' l'idea di questa esplorazione che a me piace molto no di tentare di capire cosa può esserci dietro una certa situazione anche da un punto di vista che non sempre è considerato rispetto a quello che sta facendo intendo dire io adoro la danza ma non sono un coreografo perché non si può essere un coreografo se non hai quella preparazione quell'idea quella passione quella proporzione quella non so io insomma questo vale un po' per tutti però il fatto di affiancarlo e in quel momento avere la sua visione lavorare con dei performer capire qual è il linguaggio del corpo sentire da dentro perché queste persone tu poi impari ad amarle in un certo modo artisticamente quindi il suo mondo è un po' condiviso con il tuo c'è uno scambio e questa cosa mi porta a vedere questa realtà con il suo punto di vista quindi capisco dove sta andando capisco cosa vuole raccontare e quando torno a costruire quello che vorrei costruire perché tu parte comunque su un'idea hai la sua influenza è come se il linguaggio ti si arricchisce ma la sua influenza viene capitalizzata nelle relazioni che tu metti in atto dopo vuoi dire io collaboro con te che sei un coreografo e io come dire assorbo da te perché voglio dire succede questo estintivo che imparo dalle situazioni e poi è ovvio che se da un coreografo torno a un regista che su una situazione è differente vuoi di prosa vuoi di un'opera lirica vuoi di un concerto quella materia continua a vivere e se io riesco a posizionarla da qualche parte ho capitalizzato quegli input quindi come dire è un flusso quindi nel caso del Portogallo sì c'è una nazione specifica e c'è un grande amore per la loro cultura per il loro modo di fare li apprezzo su molte situazioni ma questa è una cosa personale che non entra molto dentro cioè entra abbastanza però non è che intrincea metto questa come diciamo però in realtà le collaborazioni in senso globale che ho avuto sono state per me importantissime perché uno nella fiducia reciproca di portare avanti un progetto finalizzata all'ottimizzazione dell'idea che c'era a monte perché è ovvio che non tento di far prevalere quello che voglio fare io viceversa se la persona insomma condivide in maniera creativa quello che sta facendo tenta di mettere e di imporsi con qualcosa c'è uno spirito di condivisione totale del processo produttivo creativo che si sta portando avanti che alla fine tende a un risultato un'idea portare infatti i lavori che ho fatto diciamo per la maggior parte hanno dietro qualcosa che li caratterizza in una maniera secondo me molto forte dal punto di vista proprio dello studio fatto concettualmente sulle situazioni la colorimetria il posizionamento delle immagini il tipo di immagini i tempi i tempi che le immagini devono stare e la velocità dentro l'immagine stessa le superfici che uno va a usare ripeto ogni superficie risponde alla frequenza d'immagine è narrativa quindi come dire torno a dire che è il linguaggio preciso quindi lo scenografo torno a dire il costumista le musiche stesse le musiche ne prendo atto diventano un ascolto continuo non sempre le uso ma se ne deve tenere conto sulla costruzione di questo quindi come dire c'è stato un arricchimento un po' continuo che io devo a queste collaborazioni con gli autori con i quali insomma mi sono un po' incontrato sono nati dei progetti che quello sì quello credo sia stato fondamentale per me proprio intimamente per imparare imparare a vedere delle cose in una maniera molto più profonda poi con generalmente il mio rapporto d'amicizia anche personale con gli autori con i quali ho collaborato è sempre come dire verde non so dirti mantengo questa bellezza anche se la collaborazione magari non va avanti poi su dei progetti su delle cose perché non sembra insomma l'utilizzo del video anziché l'idea o lo stile è conforme al progetto che si sta mettendo in atto questa è una maniera proprio reciproca perché alcune volte anche io potrei usare una corredentia all'interno e far capo a te non sempre queste cose poi diciamo in un rapporto di collaborazione ci si può conoscere portare avanti un progetto e poi ci si può salutare per un tempo così indefinito nel mio caso invece ho un rapporto con le persone ma un rapporto concreto di amicizia di stima creativo si parla di progetti di cose anche se poi non riguardano il nostro impegno diretto però comunque c'è qualcosa che va avanti che si capitalizza che si riflette sulla professione e che è un grande valore aggiunto perché una bella testa una bella persona un creativo che comunque tu senti epidemicamente che ti puoi rilassare ti puoi non so concedere un certo modo è importante per me avere un confronto vuol dire certo le cose le prendi in giro non serve che incontri però sai le affinità sono anche questo il fatto di incontrare una persona con la quale condividi un'idea un progetto e così la capitalizzi e finiti lo risultato è un po' anche questo è un valore aggiunto non so spiegarti nel senso che ne so quello penso di farlo un po' meno io diciamo alcune cose come mi pongo io professionalmente rispetto a questo è ovvio che l'ansia esiste esiste poi se la togli è anche una parte dell'emozione che va che va alleggerirsi significa proprio che sei non so ridendo un po' su questo termine insensibile perché è ovvio che l'emozione di una prima l'emozione di un'immagine l'emozione di una circostanza è un alimento dentro la nostra professione cioè ci nutriamo anche di questo ci attacchiamo alle situazioni un po' parallele a tutto è ovvio che in tutto ciò c'è un'ansia sana e c'è una parte invece che è un po' più negativa malsana come dire che quella invece può farti male perché entri in una specie di loop particolare io conosco dei colleghi anche degli autori con i quali ho collaborato che in realtà faccio il doppio sforzo loro pure a volte magari lo fanno anche su di me solo e adesso sto parlando di loro però come dire raggiungono uno stato d'ansia incredibile addirittura nella notte ti chiamano ma succede questo sto facendo dico sì ma e li recito sempre scusate lo dico ma non ti preoccupare con la voce più calma del mondo però in realtà dentro mi si riscatena qualcosa che dice forse puoi avere ragione ma vediamo domani lo controlliamo cioè succede poi sai siamo fatti di una materia incompleta quindi però l'ansia c'è sinceramente c'è ma c'è in tutto sai anche se prendi un aereo c'è l'ansia poi io questa è una paura che ho superato interposta è divertente il mio modo di aver superato la paura dell'aereo perché se io ho sempre bandito l'idea l'idea di andare aereo è così istintivamente l'ansia di volare esiste quindi non sono uno che così la mette però l'idea di stare sospesi di avere questa cosa qua della claustrofobia che ti può vedere cioè prima le pensavo tutte dopo un po' o prendi l'aereo o veramente decidi che non so cambi quasi mestiere adesso non per essere categorici però cosa ho fatto ho detto ok questa è una cosa molto così mia però magari l'hanno fatto tutti non lo so ho detto forse proviamo a trasporlo attraverso l'idea di riprendere questo viaggio in aereo quindi sono andati in aereo ho fatto tutto ho messo la mia camerina ovviamente non interferiva con le cose poi tempo fa non erano digitali io usavo una camera analogica con un nastro dentro e c'era ancora questo primo viaggio che ho fatto con la Sabina in realtà la compagnia d'aereo belga ed era Roma Bruxelles mi sembra tutto filmato dal decollo all'arrivo e questo fatto di avere l'occhio nella luce e vedermi scorrere l'Europa quasi delle nazioni insomma dove passava però sotto di vedere queste nuvole di vedere queste e questo arrivo è stato veramente bellissimo perché ho superato il viaggio non ho pensato mai di stare su un aereo perché per me era immagine quel viaggio quindi io lo stavo filmando non sarebbe mai accaduto nulla di così esoterico e spaventoso perché in realtà era un video non so spiegarvi io lo vedevo nella lupa e filmavo il finestrino dentro l'aereo quindi diventava realmente il viaggio sono arrivato a Bruxelles con la voglia di prendere un'altra aereo quasi in realtà il giorno dopo mi è tornata la famosa ansia che in questo caso non è ansia scherzando con un amico gli ho dato un cognome famoso che è un metallo però in realtà chiamiamola ansia e non Asia però devo dire che i 20 giorni i 25 giorni di questo lavoro sul posto l'ansia cresceva l'idea di riprendere l'aereo non era sufficiente guardare il loop perché lì ormai il gioco l'ha scoperto e il mio ritorno è stato un po' più contrastato dentro sentiva dei vuoti sentiva del momento meteorologico però dopo un po' ho capito che questo fa parte in un certo senso della vita ci devi fare il conto esiste e lo dobbiamo prendere così se tu pensa la turbolenza adesso parlo dell'aereo la turbolenza e tutto il resto è come in terra quindi ho fatto una serie di stupidaggini di percorso mentale alla fine ho paura dell'aereo ho superato situazioni molto difficili nei miei viaggi anche dei voli in caduta libera per dei vuoti d'aria spaventosi ho scoperto di avere una calma bellissima addirittura mi hanno detto scusi ma lei cosa ha preso per non avere paura in quel momento perché rotolava di tutto una donna se nulla mi ricorda era uscita dal bagno gridavano hostess per terra mi è successo qualcosa io in quel momento sono riuscito a tenere una calma e un'abilità che anche il mio assistente è rimasto sconvolto però cosa fai? fai l'isterico? adesso non so perché stiamo parlando dell'aereo però per dirti del video girato lì è fatto lì punto volevo arrivare a questo però in pratica poi esiste tutto quello che sto raccontando esiste questo viaggio in aereo il video fatto lì questa cosa perché un po' poi entra dentro adesso c'è facebook e quindi fai la foto la posizione è un po' il diario no? prima io filmavo molto il mio bloc note emotivo avevo questa camerina all'epoca anche un po' sofisticata che era anche video walkman avevo un registratore in tasca un chiavetto questa robina in mano uno può capire anche il periodo e questa cosa la usavo spesso documentavo situazioni cose montaggio sai eri nella situazione anche tra virgolette giovane di cominciare a vedere con la tua passione stava cominciando qualcosa che diventava la tua vita la tua professione quindi dal fatto di raccoglierlo che la realtà diventava un po' più perché poi questo è anche il pericolo che lavorando sulle immagini all'epoca vivendo spesso nei teatri facendo spostamenti anche abbastanza complessi è come se tutto quello che da una parte è reale rischi un po' di tenerlo a distanza se sei giovane come all'epoca ero e le situazioni che incontravo voglio dire alcune cose a teatro il fatto di andare a cena tutti insieme che succede conoscere persone di un certo tipo diventava qualcosa che un po' poteva inebriarti e anche dal punto di vista di avere questa camerina faceva parte di quella cosa lì quindi documentare certe cose quella realtà e quindi ho anche molto materiale dietro con situazioni di questo tipo però la cosa che ricordo sempre è l'ansia prima della prima ma anche se lo spettacolo non è mio mi capita ma c'è un amico che mette in scena partecipa un po' è una cosa bella ti ripeto vissuta in maniera positiva di cyborg come diceva sì saliamo del cyborg che questo è io trovo straordinario quello che dice lui lì Enzo Mari perché ha un occhio che ha fotografato una realtà in una maniera che a livello di percezione e di situazione magari è un dato acquisito tu esci per strada e vedi che le persone hanno in mano il tab anziché il telefonino cuffiette anziché bluetooth tipo stamattina a colazione in albergo c'era un signore che entra parlando guardandomi io dico ce l'ha con me poi mi rendo conto che aveva bluetooth questa roba qui e stava parlando a qualcuno però quando parli a qualcuno la tua intenzione è proiettata sul lato lo sguardo è un po' perso quindi non ci si rende conto che io posso dire ok guarda allora ci vediamo stasera e ti guardo però in realtà non sto riferendo a te però disorienta quindi dico ma guarda tu che stanno cortocircuito stava parlando con me ma in realtà è da un'altra parte quindi sai queste cose entrano nella quotidianità e questa assenza questa andare in stazione o i viaggi in treno tutti concentrati lì cioè è un dato acquisito è anche una banalità sottolinearlo ma lui lo fa in un modo che secondo me è interessante poi profondamente lui dice una cosa molto bella dice che ognuno di noi insegue questo sogno di comodità infinita ormai no? che vogliamo stare bene vogliamo avere mezzi per fare quello che vogliamo sempre fare uno sforzo possibile e ribadisce che contrariamente bisogna rimboccarsi le mani che costi quello che costi nel senso che armiamoci lavoriamo non so dire e questo è un po' la base di tutto è un po' quello che dicevo anche stamattina tutto quello che non è legato semplicemente al lavoro fatto con le immagini al lavoro artistico in generale anche per tutte le competenze lo vediamo anche nei medici che c'è un'evoluzione continua tra congressi conferenze gli aggiornamenti no? e costantemente lì bisogna essere aggiornati per fare una professione attualmente se vuoi essere non dico competitivo perché è un brutto termine non serve essere competitivi perché il fatto di confrontarsi con delle persone per tentare la competizione per sopraffare è un brutto termine non è che sia quello il motore però per essere allineati su un linguaggio che comunque ti fa sentire vivo perché respira di aria fresca è semplicemente questo il fondo il fatto che ripeto come ho detto anche prima spesso l'ignoranza cosa comporta che tu puoi pensare di aver ovviamente l'idea è sacra a monte il progetto deve esserci devi sapere quello che fai io non voglio parlare di questo lo do un po' per scontato però la finalizzazione se vuoi più poi così tecnica per ottenere un risultato spesso non avendo più questa maniera certosina di intervenire fisicamente concretamente ma ci si affida a possibile software ci si affida a delle situazioni che sono un po' così non precisamente come dire tento una sintesi se non mi riperdo di nuovo ci si può entusiasmare su un risultato che in realtà è un po' dozzinale e quindi che significa che la tua idea per quanto originale possa essere viene lesa dalla tecnica che te la fa scendere a un livello meno originale non so se sono stato chiaro perché ho fatto un giro con torto allora il fatto di comunque approfondire la conoscenza andare sullo stile portare avanti un discorso che è in continua evoluzione significa proprio questo riuscire un attimo a a trovare un'identità personale a utilizzare una materia che apparentemente prima era più tecnica perché per fare per ottenere un certo risultato i passaggi erano molteplici e non sempre semplificati quindi magari c'era una linea di programmazione c'era da gestire varie coordinate adesso no adesso ho software molto più chiaro i processi diciamo lo start up su un processo è riassunto da un tasto quindi tu schiacci il tasto hai un risultato parti da lì in poi lo porti dove vuoi quindi siamo molto più avvantaggiati non devi essere un tecnico così evoluto per usare attualmente la tecnologia poi la Apple in un certo senso ci insegna con un sistema operativo che ti permette pochi errori con dei programmi che ti permettono pochi errori cioè cadi in una specie di griglia dove in realtà a volte insomma tu provi a sgomitare ma è un muro di gomma purtroppo lo dico io spesso per questo lavoro sugli errori quello che dicevo anche prima perché attraverso l'errore riesco a trovare un'identità più mia nel senso che lavorando su un programma per divertimento mi piace lo uso in maniera funzionale non è che lavoro solo sugli errori però a volte mi perdo proprio per passione per situazione per quello che vuoi mi perdo dentro un software e comincio a cercare delle possibilità alternative per il risultato incrocio dei filtri metto dentro delle robe provo a fare tutto un percorso che diventa istintivo appena genero qualcosa che mi piace appena vedo che magari va in tilt e c'è un'immagine di qualche tipo ricostruisco quel piccolo percorso e ci lavoro su e questa cosa in realtà crea un risultato che è un po' più intraccabile per tracking intendo il fatto che ti seguo e riesco a capire da dove sei partito come ci sei arrivato come dire perché purtroppo lo dico c'è una lettura creativa del nostro mondo visivo che ci circonda parlo sempre legato all'immagine dei miei video a quello che vuoi tu ma un esperto che ho più esperto anche una visione che può traccare il tuo grado di qualità all'interno dei software che usi se hanno una complessità particolare se stai appoggiando su delle demo se stai appoggiando su dei plug-in di un certo tipo che grado di diciamo consapevolezza hai messo tu cioè ti do una misura a parloci chiaramente ho un occhio molto attento riesce non solo a darti un valore artistico anche quello è fondamentale ripeto la base di quello che si fa però purtroppo esiste un feedback che ti dà anche questa valutazione che può essere secondo me sono delle deviazioni no? come quando vedi qualcosa e lo vedi firmato per un certo nome e gli dai un valore all'abbigliamento che si fa bellissimo non si fa grande direzione quel prodotto il risultato di questo con questo con questo ha usato questo quindi in realtà se fa parte di un discorso molto complesso all'interno della vita dell'autore sai ti passa inosservato non è che sei lì a tirare il somme però se fa parte di un entusiasmo di qualcosa capisci se non so che grado di evoluzione può avere perché adesso si lavora molto in maniera molto in maniera meno collaborativa no? anche per necessità si tende a stare sulla macchina e portare avanti una roba da solo quindi c'è un'evoluzione continua e personale e in questo caso si può ricostruire un percorso così bene io non so ho esaurito un po' quello che non gli argomenti perché ovviamente però a parte il tempo e poi comunque insomma mi sembra di aver detto un po' di varie cose se non ci sono domande tenderei a salutare a ringraziarvi veramente per questa occasione che per me è stata molto interessante tra l'altro anche riuscire a rimettere in gioco tutto questo mondo e quindi grazie grazie per questa possibilità benissimo grazie a tutti